Be' le statistiche parlano chiaro, il silenzio del pubblico parla chiaro, i fan del mio canale pensano ancora e solo a te vecchio mio, quindi direi che è giunta l'ora di liberati dalla criostasi e lavora di nuovo insieme a te, e stavolta è definitivo, non mi distrarò d'altro, mi serve almeno una buona idea per rimetterti in scena con il botto, uh ma che idea deliziosa che non c'entra niente con Sonic, voglio subito andare a provarla. Aio, ma cosa? Dexter? Lindlon! Gentile signor Sonic, il tempo di sosta nel freezer è ufficialmente scaduto, vi preghiamo di muovervi in ordine verso la porta di emergenza, e grazie di aver scelto i servizi freezer di Mr. Maschera Super Distratta! Che... che cosa ci fai tu qui? Secondo te? Ho rischiato letteralmente la coda per scoprire dove che questo genio mascherato ti ha tenuto nascosto! Sono almeno dieci anni che siamo scomparsi da questo canale YouTube! Dieci anni? Sul serio? Esattamente! Ed io dico che è ora di tornare in scena per conto nostro, e non aspettare che lo faccia lui, ormai la sua mente è distratta, l'ho imparata a memoria! Che ne dici? Mmm... Beh, di certo è meglio che rimanere qui congelato per tutto il tempo! Ben detto! Usciamo da qui! Aspetta, ma tu sai come fare i video? Ma certo che sì! Altrimenti, come pensi che io abbia pubblicato la mia guida per il test anti-Covid? Eh? Che cos'è il Covid? Vi ho fatto aspettare, eh?